Burroni bentornati in questo nuovo episodio del non rompere questo blocco del lunedì sul canale Già vedete qualcosa di diverso qua dietro perché c'è scritto Marci vs Marco Solo che Marco non c'è in questo video dobbiamo scovarlo Ma prima di scovare Marco vi ricordo una cosa importante Di lasciare un mi piace a questo video superiamo i 10.000 se volete un altro video di non rompere questo blocco Lo so è una delle poche serie a cui chiedo tanti mi piace ma ci tengo moltissimo che vada bene Altra cosa importante iscriviti al canale se ancora non siete iscritti Quindi cliccate il tasto rosso qua sotto così arriviamo in fretta a 550.000 e basta Basta che perdiamo troppo tempo e perdiamo il watch time Allora oggi andiamo a fare dei nuovi minerali che si chiamano oro nero diamante nero esmeralda Aspetta devo dirlo all'ospite l'ospite è qua dentro raga non so lo sapevo già dove era Questa volta ero d'accordo con lui perché non sapevo dove farlo nascondere Ciao ospite No non parlo fino a quando non rompo questo bellissimo ore con la mia mano destra non parlo Devi spaccare anche quello sotto Ciao Ciao ospite Allora questi minerali qua droppano questi lingotti neri il lingotto di oro nero La gemma di diamante nero e la gemma di smeraldo nero valgono rispettivamente 50 100 e 150 E ti dico una cosa chi vince non succede niente in realtà vinciamo la gloria e basta Comunque seguiteci stasera su twitch alle 8 al canale di marco alle 21 sul mio canale Allora siamo pronti marco oggi voglio essere bello fast hai già tutto la caverna ce l'hai la mia quella là in fondo Posso prendere già questi vero si dai partiamo No 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 aspetta ti faccio dire una cosa io prendo quelli verdi Oh radro e oh calma 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 Ma quindi li teniamo davvero questi io ne ho 5 5 4 6 5 4 Io ne ho 4 3 1 Facciamo che li buttiamo va Dai li butto in questa pozza qua bellissima Via 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 Vai io parto ciao addio ciao Ce l'hai la night vision ce l'hai la night vision sei sicuro che c'è Ma io sono fortissimo io sono bravissimo Non puoi dubitare del buon demarc tu eh per ogni volta Ok vado vado Ci sono Alexa imposta un timer di 15 minuti Perché Alexa devi contare di te 15 minuti A partire da oro Ti immagini di contare i minuti del mentre stai minando Cioè non riusci a farlo come cosa Scusa tu non sei capace a farlo No Marco ho sciolto una caverna a pacco Eh mi spiace per te ciao C'è il sotto ti prego Dittemi che c'è il sotto 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 C'era l'inghippo Guardali qua che belli quelli di oro No sono bellissimi Marco Sono stupendi Molto carini Sono innamorato di quelli Non sono belli quanto me però sono molto carini Ma dei gialli ce ne sono tantissimi Io ne ho già tipo 8 pezzi Tu quanti ne hai? Io ne ho 15 Ok ti dico solo che non valgono ovviamente gli altri blocchi Cioè questa cosa sia chiara Cioè sia Non mi dire sia scura per cortesia Che sono già passate di modo Sia Elena Sia Federica Sia Erika Perché è proprio Federica Erika Erika sì lo so perché Va bene dai vado avanti Ok Allora giallo giallo non ne trovo Non ne trovo Dei Oh La caverna va avanti qua Ed è finita Allora Ti dico subito che gli smeraldi sono abbastanza No sono bastanza rari Bastanza Non abbastanza No sono bastanza Ok 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 ho trovato dell'altro nero Buono Ok bello il diamante Il diamante non è come quello della vita in città Ma è molto molto bello Sarebbe bello aggiungere questa mod nella vita in città Sarebbe molto interessante Sì sarebbe carino Sarebbe carino per l'Ikea Per l'Ikea Non per il mio negozio Oh 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 Cosa Oh Diamanti No diamanti Tanti diamanti valgono di meno Io trovo lo smeraldo Come ti permetti di queste cose Sai che ho fatto apposta mettere che lo smeraldo valesse di più del diamante Eh ma è stato cattivo te Potenzialmente è più raro secondo me lo smeraldo del diamante Sai che siamo vicini Sì come fa a saperlo Vedo il tuo nome Eh vabbè intanto gli smeraldi me li prendo io Guarda che c'era un momento della sfida In cui si inizierà a fare branch mining E lì sarà il momento clou Perché lì si capirà se Oh quanti smeraldi Ma tu smeraldi ne hai trovati già? Aspetta che devo togliere l'autojump Grazie Minecraft per mettere ogni volta L'autojump è veramente Sì ne ho trovato uno E tu sei praticamente Io sono dietro di te Ciao Dove sei? Sì Hai la fortuna che ti puoi tippare da me Che è rimasta la roba vero? Sì 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 tranquillo Buongiorno Vai via Vai via Salve No si Cos'è che stai facendo? Cos'è che stai compi? Perché c'è dell'acqua? Cosa? C'è dell'acqua Ti sei impostato la mia caverna Ok non hai lasciato il diamante qua? Non ho fatto niente Oh ma che vuoi? Ok comunque volevo fare una domanda ai funzi Visto che tu hai parlato dell'autojump no? E molti mi dicono Marcio ma come fai ad usare l'autojump? Ma ragazzi ma l'autojump è la cosa più 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 Fastidiosa Fastidiosa e peggiore della storia di Mario A me non piace per niente Perché se voi la usate scrivetecelo nei commenti Io personalmente Allora il giorno in cui la misero Mi ricordo che tutti dicevano Eh ragazzi la svolta La rivoluzione Adesso è più facile fare tutto Tutti il giorno Adesso si diventeremo competitivi e-sports No no non dicevano Come? Magari era tipo c'era l'e-sport di Minecraft Ma sai che c'è stato? Ti racconto questo aneddoto Perché magari i fan non lo sanno Per chi non lo sapesse cos'è l'e-sport L'e-sport sono le competizioni esportive Ovvero le competizioni con i giochi Tu puoi competere giocando a Call of Duty A FIFA A Fortnite Eccetera eccetera E una volta ci fu l'idea di fare L'e-sport di Minecraft Sui survival games Purtroppo però Quanto pare Minecraft Proprio Dopo che era stata Era trappellata questa notizia Di alcuni Di alcune agenzie Fece uscirla 1.12.2 Dove il combattimento Cambiò radicalmente E niente Wow Emozionato Mi è emozionato Che poi non so se lo sai Ma adesso sarà per cambiare di nuovo L'update Sì lo so E tu sarai contento di questo Di questo update Io non sono mai contento di Minecraft Non ti piace Fa schifo E' un bellissimo gioco Diciamo che Diciamo che Io preferisco Minecraft A Fortnite Perché Fortnite Dovrebbe raggiungere giusto Qualche cosa in più Su Minecraft Ecco dice Oggi l'argomento del giorno E' Fortnite ragazzi Ne abbiamo già parlato anche con Martina Di questa cosa Ma non con Marco Marco parliamo di Fortnite Adesso molti dicono Eh ma adesso Fortnite Da quando è cambiata la season Non è più la stessa Nel suo gioco E' diventato brutto Io rivolgo la vecchia mappa Ed è una cosa abbastanza E' abbastanza comune Come cosa Cioè non è una cosa Che dicono solo Due o tre persone E' una cosa che dicono In molti Io voglio sapere Il tuo punto di vista Riguarda Forte Perché io personalmente Ho iniziato a giocarci tanto E niente Cioè tanto Allora Fortnite è un bel gioco Il problema di questo bel gioco Sono le persone che ci giocano Lo sapevo guarda Era una frase fatta Ma una frase fatta Che ci stava In questo momento E la community che ha creato E' vero Cioè troppa gente Secondo me ragazzi Che deve per forza competere Non si può divertire Per giocare Cioè io per dire Quando gioco mi diverto Faccio lo stesso arena Perché mi piace salire di punti Ma non è che se perdo una partita Impazzisco Cioè un pochettino si In realtà Perché ci rimango male Però non lo so Non lo so Effettivamente la community Che gioca a Fortnite E' diversa da quella di Minecraft Decisamente Ma forse anche un po' Il pubblico secondo me Di Fortnite Ma non il pubblico di YouTube Ormai si sono abituati Esatto No sai cosa Il pubblico che deve giudicare Quanti punti hai Se non hai Tot punti Non hai il merito Di essere seguito E' vero E ti dico anche un'altra cosa Mi è capitata questa cosa Proprio in live su Twitch Ragazzi Ho iniziato a fare arena Da tre giorni E in tre giorni In tre giorni e mezzo Sono arrivato a 3500 punti Che per me Non è male Cioè non è un risultato Malvagio E' arrivato un ragazzo Che penso che sia Un ragazzo che giochi Pro player E fa Che schifo Fai Fortnite E ti devi solo 3500 punti Sì beh la maggior parte Di queste persone Però si lamentano Perché fai mille spettatori Esatto Esatto Bravo Bravo Perché la gente A me e Marco A Steve A Fer E tutti questi qua Ci guardano Perché piacciamo noi Non per forza Perché facciamo Fortnite Sì in effetti La gente dovrebbe più Puntare alla persona Che al Esatto Che al gioco Potrebbe essere Quindi da domani Inizio a fare Prato fiorito Bello Ma sai che da Visto che c'è Prima il computer La gente mi chiede Prato fiorito In live Veramente Sì sì Ma non c'è Non c'è su Windows 10 Lo sai No faccio il competitive Faccio il battle royale Di prato fiorito Esiste il battle royale Di prato fiorito Lo creiamo Stavo per spaccare I funghi pensano Di essere un random Ocacì Comunque vai avanti Scusami No niente Adesso investirò Sul competitive Di prato fiorito Il che potrebbe essere Interessante Sì C'è il competitive Di tetris No c'è il battle royale Di tetris Lo sapevi Beh quella è una genialata Sì è veramente Una genialata Una genialata Comunque Marco È la prima volta Che affronto un argomento Così serio E abbiamo Delle argomentazioni serie Ma voglio che voi Ragazzi nei commenti Ci scriviate un pochettino Il vostro punto di vista Riguarda forda Perché so che molti Ci giocavano veramente Tanto al gioco Però poi hanno smesso Di giocarci Proprio per il motivo Che linkava Marco Ovvero della community Che è un po' Un po' così Sono entrati in un mineshaft Ok questa cosa è interessante Anch'io sono qua dentro Anch'io È interessante come cosa sappi Beh Se ci fosse roba Sarebbe interessante Sì Il problema è che Non trovo nulla Ok nemmeno io Eccolo qua Torniamo Torniamo a parlare Un pochettino Del Del video Allora tu quanta roba hai Io sono messo Relativamente bene Perché ho 64 Più 20 Lingotti di oro nero 45 di diamante E lo smaladon Non te lo dirò Non te lo dirò Io non ti dico nulla Basta No dai Di me almeno uno Di quelli che vuoi te No C'è uno dai Uno solo Allora io ti dico che ho Uno stack di diamanti Urca Sono tanti Molti più di me Molti molti più di me Sì 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 Io ne ho 48 pezzi Oddio adesso salgo un pochettino Adesso salgo un pochettino Ma Mannaggia Mannaggia Più che altro sai cosa Bisogna lavorare anche molto Io stavolta ho bilanciato un po' meglio i risultati Perché nel mio passato Avrei messo Considera che L'oro valeva 50 Il diamante 70 E l'altro 100 Invece se no ti ho fatto una roba completamente diversa Ovvero 50 100 150 Ok Perché secondo me è più positivo Ho trovato i diamanti veri No Non li voglio Eh no Quelli non valgono Non valgono Eh lo so Lo so Mi dispiasa Mi dispiasa Infatti sto scavando un po' a caso ora Ok io sto cercando di trovare Ok ho trovato dello smeraldo Ma qua c'è dell'oro Che non si può buttare Guarda che l'oro Occhio eh Occhio eh Perché l'oro potenzialmente potrebbe essere Tanta roba Infatti Non lo so mica denigrando Sei già arrivato a due stack di oro tu Ma va Di oro sono messo malissimo Uno stack e uno Ok si è messo Smeraldo più o meno Quante ne hai Hai superato lo stack No Ok No nemmeno io Ne ho 19 Volevo vedere cosa dicevi Ne ho pochissimo di smeraldo Ok Alexa quanto manca il timer Vediamo un po' quanto ci rimane Ok Alexa quanto manca il timer Ma come solo 5 minuti Eh devo mettermi in spettatore Perché ti sei buggato Perché se no crasho Sì Ok No va bene puoi farlo tranquillamente Non ti preoccupare Se vuoi sbagare dei blocchi Basta che clicchi tasto destro Ok Sul blocco che Sul blocco che Che è rotto Ok ragazzi Qua c'è veramente tantissimo diamante nero Mi piace moltissimo questo diamante fatto così Che poi non so se hai notato Ma ha la texture diversa da un oro normale Ci sono delle venature in più Comunque qua c'è un botto di smeraldo Ho visto ho notato C'è veramente un botto di smeraldo Oh se no uno stack e mezzo di smeraldo Dai Allora teoricamente ho vinto Smeraldino Sì tu vinci sicuramente per lo smeraldo Perché io sono messo Io sai che sono veramente in una streak super positiva Sono tipo tre mesi che non perdo L'ultima volta che ho perso Sai quando è stato? Mh Quando abbiamo fatto la nederite La nederite La nederite Lì ti ho stracciato Distrutto No no distrutto Ma chi è stracciato? Eh dall'inpoi te la sei giocata bene Eh me la sono presa sul personale Eh sì Ho detto no non va bene C'è stato un pareggio di mezzo Una cosa assurda se ci pensi Abbiamo fatto un pareggio con Martina Pareggio proprio Stesso di tutto Di tutto? Di tutto lo stesso che abbiamo trovato Pazzesco È una cosa che se ci pensi è impossibile In realtà è stato possibile Ok fammi salire Dai 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 A parte che da quando gioco a Fortnite Una cosa che ho imparato a fare su Minecraft È che per cambiare tipo i tool Uso le lettere I numeri adesso No fastidiosissimo Io non uso più la rotellina No non la gestisco Ma perché tu usi le lettere sopra su Fortnite Quale lettere sopra? No io Eh del tasterino In che senso? Eh tu usi le Non le lettere Scusa ma i numeri sopra usi Eh tu che numeri usi scusa su Fortnite? No io non gli uso i numeri Zero Nessuno di quelli lì Zero Solo il 4 per il fucile a pompa Oddio No io uso 1, 2, 4 Il 3 non so Come fai a usare il 2 È inusabile il 2 Perché l'uso col medio Io vado avanti con la V E poi vado con La V non si può togliere dall'utilizzo Eh infatti non la togli Eh sì Infatti io cosa faccio? Io uso il medio Uso il medio sulla V Però se devo andare su 1 e il 2 Metto l'indice sulla V Non si può sentire sta roba Guarda che è la cosa che fanno i pro player Ma non è vero Ma sì che è vero Ma dove sto scritto? Ma certo Guarda che loro usano 1, 2, 3, 4, 5 No Sì 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 Quindi chiedi a Stefano che lui gioca molto meglio di noi Chiediglielo Vediamo cosa ti dice Va bene Aspetta 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 che qua c'è dello smeraldino Bello sto smeraldino Quanto ce n'è? Quanto ce n'è? Mi sto baggando Secondo me manca poco Alexa quanto manca il timer? Il tempo residuo con il tuo timer da 15 minuti e 3 minuti Ma è passato in fretta Ah mi è manca tantissimo Ma che tantissimo? È passato in fretta al tempo Ma che dici? Secondo me è passato in fretta al tempo Imo Che poi mi chiedono tutti Cosa vuol dire Imo? In my opinion No in my honest Perché ci metto anche la stessa Imo Imo Ok Imo Ok Imo Imo Allora qua c'è un'altra insegnatura Sembrerebbe buono Vediamo se c'è qualcosa Io inizio a fare branch mining Branch mining ragazzi per Marci Super branch mining Ti conviene anche a te te lo consiglio Gli ultimi Tu hai mai diventato il topic Più topic delle mie live ultimamente Ok che faccio branch mining? No Cosa è successo alla mia macchina? E non lo voglio spiegare Perché cosa è successo? Anche la tua si rotta? No L'altra Ah la macchina tua nella realtà? Eh sì 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 In che senso cosa è successo? Perché è uscito qualcosa? No Non lo so E questo è il problema Non so Io non ho detto niente Marco Cioè che magari pensi che sono stato io No 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 Il topic è apparito da una persona Che mi ha chiesto che macchina avessi Solo che poi non ho voluto spiegare Da lì in poi è diventato il mistero Il mistero della macchina perduta di Marco Esatto Esatto quello Ok Devo andare È difficilissimo questo punto Ok Ok Mi sono andato io Mi sono andato da quel posto lì Perché mi sembrava che fossi vicino peraltro Però ce l'ho dello smeraldo Mi conviene prendere lo smeraldo Mi conviene assolutamente prendere lo smeraldo Mi conviene assolutamente prendere lo smeraldo Ah 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 Anche poi Marco sai cosa mi chiedo tantissimo? Di fare le gare su GTA in live Non le faccia mai Dobbiamo fare le gare Hai ragione anche te Bisogna aspettare il nuovo pc Il nuovo pc che arriverà nel prossimo Non si sa mai Non diciamolo per scaramanzia Non diciamolo Per sicurezza Lasciamo perdere Allora io sto trovando un botto di roba Sicuramente ma non so come Oh Questa è stata una scelta migliore No il branch mining ragazzi è favoloso Cioè fare branch mining è favoloso Io non ci posso fare niente Prova a fare Guarda che gli ultimi minuti è sempre stato consigliato E guarda che lo sto facendo da dieci minuti Solo branch mining stai facendo? Sì a caso E allora dovresti essere primo Perché quel branch mining è una teoria No, non è chiaro Quanto allora facciamo così Quanto oro hai? Dimmi solo loro Uno stack 49 Ok Ho vinto io allora Ecco Vedi Vediamo dopo vediamo però Non so se voglio fare il conto finale Perché lo fanno loro nei commenti Vediamo ad occhio noi chi ha vinto Vediamo ad occhio Non c'è male di fare i calcoli oggi Non c'è male di fare No diamanti normali Che tristezza tra i diamanti Io li prendo lo stesso I diamanti normali sono proprio tutti E adesso guarda Uh Ho trovato un'altra insegnatura E là c'è dell'altro smeraldo Ok Allora Prendiamo Roby Alexa quanto manca il timer? No altri diamanti normali Il tempo residuo per il tuo timer Da 15 minuti e 20 secondi Oddio 20 secondi Guarda che ho trovato un sacco di smeraldi alla fine Non ci posso credere Ok Vediamo se rischiate qualcosa altro Sì sono là in fondo Sono là in fondo Sì sì Prendi 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 Ragazzi Uno stack di smeraldi Mamma mia Hai vinto sicuro Alexa basta Fine Allora Andiamo su GM3 Game mod 3 Andiamo subito su Vediamo quando ci siamo allontanati Come è che mi sono allontanato Io sono andato qua dietro Io non so dove sono Sono andato lontanissimo Mi sa Infatti non trovo neanche la roba Ti vediamo Ragazzi ma dove sono? Vediamo Ti vediamo eh Ok no sono andato un po' lontano Un po' lontanuccio Eccomi qua Allora metti tutto nella chest In ordine Prima il gold Poi in basso metti In basso di uno metti il diamante E in basso dell'altro lo smeraldo Ok Ok Allora Vai Apro la tua Vai Ah Ho vinto io per forza Ho per forza vinto io Ragazzi C'è il vincitore Voi se volete farlo sui canali Iscriveteci di sotto Mettere i cuoricini a chi farà il risultato esatto Noi ci vediamo in un prossimo video Della serie Non rompere questo blocco Consigliateci sotto nei commenti Altri argomenti del giorno Di cui trattare Visto che è forte Me l'avete chiesto Settimana su questa Da Marce è tutto Ciao a tutti Ciao ciao